Ho visto una squadra attenta e da domani cominciano le partite, ed è quello il banco di prova della squadra. Cersei Cosmi, nella conferenza stampa pre-partita di oggi, quella della sfida contro il Napoli, dice di volere un centrocampo aggressivo, che sia in grado di recuperare rapidamente un centrocampo in sostanza sia in grado di poter ribaltare l'azione, giocare la palla e cambiare le sorti di un incontro. Sentiamo una parte della conferenza stampa. Quindi mi riferisco alla preparazione di queste due partite, quella di Napoli e quella di Verona. Abbiamo dato priorità ad alcuni aspetti, come è normale e logico che fosse. Devo essere sincero, ho visto una partecipazione, un'attenzione, un'applicazione e anche un entusiasmo positivo. Quindi è andata l'impatto, diciamo così, oltre quelle che potevano essere le migliori aspettative per quanto riguarda ovviamente gli allenamenti. Poi sappiamo tutti benissimo che adesso inizieranno da domani le partite e quelle rimangono a mio giudizio i test o le risposte, non tanti test, le risposte più attendibili che nel calcio esistono. Il resto è importante ma rimane una coreografia. Le partite sono l'essenza del calcio.